Allora, supponiamo di avere questo triangolo, un triangolo scaleno, supponiamo che questo è il vertice A, questo è il vertice B, questo è il vertice C, questo sia H e questo sia K. Supponiamo che AH che è l'altezza relativa al vertice A, quindi perpendicolare al lato BC, quindi questo è un angolo di 90 gradi, sia uguale, la chiameremo questa per esempio H con A, supponiamo che sia 8 cm, supponiamo. Consideriamo l'altezza CK e dell'altezza relativa al vertice C, supponiamo che sia 10 cm, quindi questo è un angolo perpendicolare. Quest'angolo è l'angolo beta. Allora, la domanda è questa. Quanti sono i triangoli che hanno l'area, quindi tutti i triangoli che hanno come altezza AH 8 cm, come altezza relativa al lato AB di 10, quanti sono i triangoli che hanno l'area uguale a un numero intero di due cifre? Ecco, devo sapere quanti sono questi triangoli. Ovviamente devo prima accertarmi che esistano più triangoli con le due altezze relative alle basi uguali a questi valori, chiaramente triangoli diversi da questi, ma questo è ovvio perché fissato beta, quindi una volta che ho fissato l'angolo beta, sulla semiretta BC io troverò un punto che dista 10 da questo lato e sul lato AB troverò un punto A che disterà 8 dal lato BC e questo vale per ogni apertura dell'angolo alfa, beta, volevo dire beta. Allora, cominciamo. Quindi, supponendo che ci siano infiniti triangoli che hanno queste altezze, avrò che l'area del triangolo, posso calcolare l'area che si calcola facendo un mezzo base per l'altezza AH. Ora, però, dalla trigonometria, se questo è beta, io ho che questo lo posso scrivere come un mezzo AH per BC. BC come lo trovo? BC non è altro che l'ipotenusa di questo triangolo rettangolo. Quindi, se lo voglio esprimere in termini di CK, io avrò che CK, ecco scriviamolo qua, CK è uguale all'ipotenusa BC per il seno di beta e quindi, esprimendo BC in funzione di CK, BC sarà CK diviso seno di beta. CK diviso seno di beta. Quindi, l'area la esprimerò in questo modo, un mezzo, i due valori di altezze 8 e 10 che ho, che posso scrivere, H per HC diviso seno di beta. Quindi, ho l'area in funzione dell'apertura dell'angolo e in funzione delle due altezze. Ora, queste due altezze le conosco, mi manca beta. Ora, beta chiaramente varia da 0 a 90. Ovviamente, possiamo fare, no? Possiamo considerare gli estremi da 0 a 90, anche se 0 non rappresenta un triangolo. Però, se vado a vedere il valore massimo 90, ma anche se è super a 90, insomma vale questo discorso, io ho che il valore massimo di seno di beta, quindi seno di beta assume il valore massimo quando beta è 90 gradi. Quindi, se beta è uguale a 90 gradi, ho il valore massimo dell'area che è un mezzo, HA per HC e rappresenta proprio il triangolo rettangolo fatto in questo modo, dove questo è il vertice B, questo è il vertice C e questo è il vertice A. E questi due rappresentano i due cateti, le due altezze che abbiamo. Quindi questo è il valore massimo, il valore minimo che può assumere. Perché il valore minimo? Perché il seno di beta assume il valore massimo. Nel momento in cui il seno di beta diventa più piccolo di 1 e tende a 0, ovviamente A cresce. Quindi, se questo è il valore minimo, il valore minimo sarà un mezzo, 8 per 10, cioè 40. Quindi l'area minima che può avere questo triangolo è 40. Ora, se ci chiede quali sono tutti i possibili triangoli che hanno l'area formata da un numero intero di due cifre, l'area, il numero di triangoli, basta contarli, saranno quelli che hanno un'area che è uguale a 41 oppure 42, fino a 99. E quanti sono questi triangoli? Se facciamo il conto, da 41 a 99 sono 60 triangoli. Quindi la risposta corretta è 60.